Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. E' la decima volta che provo a farlo, ma perché mi killano? Ma non importa, dai, vai. Basta, stavolta devo essere forte. Se so... Il gioco mi dà qualche kill, perché io quando faccio via non riesco a killare, però... Dettagli. Ok, dai, lo interriamo. Atterriamo a Borgo. Mamma mia, l'avrei killare 800 volte. Dai, Borgo, tu sei un pro, Borgo! Voglio saccheggiare il più possibile a Borgo. Non so, andiamo lì, la laguna. No, 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 sì, 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 no, non lo so, Borgo. Non lo so, dai, ti cibi tu. Ok, andiamo alla laguna. Non siamo, non andiamo... Cioè, Borgo, vi c'è che siamo andati in botto di volte, è uscito da poco la laguna. Ci merita un po' di volte che ci andiamo, dai. E gli sbaglia così. Però un po' di gente neanche ci dovrebbe andare. Comunque io faccio il torneo, allora, scusatemi. In teoria dice che lì ci sono gente di potenza uguale a me. Allora, vado a farlo, cioè. Ci sono quelli che sono ninja o più? Non so, non so, non so, non so, non so. Allora, sì, l'armi è di colore blu-verde. E la partita può dire che l'ha persa. In queste forze, però, è che la può fare, non c'è. Cosa? Perché non ho avuto disponiente, va bene? Vabbè. Vabbè. Mi ha sfiorato bene, in teoria, tutto lì. Stavo dicendo solo finché non trovo il pompa. Che ho ottenuto la deagle. Ho trovato subito. C'è davvero che non vuole come fucile di protezione la deagle? Perché... Per me, cioè, in teoria non vuole. Non hai mai messi questo piano di loot? No, sì, io voglio perdere. Sì, ma non so, l'hanno un po' di loot anche qui. Anche dentro ste case, in teoria, c'è tanto loot. Ma di più di tutto l'hanno grandissima. che è di loot. Ma io mi tengo sto pompa, raga. Ma perché è più veloce? Vabbè, se ho trovato un po' di nonno... Vabbè, però, che sfido. Vabbè, comunque un jump? Ooooooh, questo vuole di cabera. Quanto sono ben rifornito. Sono solo una jump. Nello sviluppo delle tropole sono una jump. Dov'è? Ma in teoria qua ci dovrebbe essere il geyser No? Quindi non ha un bel senso se usa il cosa La jump Però se trovo il tattico blu me lo prendo blu Non lascerò questo Non c'ho voglia più di prendere casse e casse La selezione infinita è oltre Però un po' in pieno Cos'è con l'araba? Una rigol Sulla rigol o c'è tutta anche il vero qualcosa adesso è il gioco che mi fa fare per una volta una bella figura eh no vabbè no nab o no 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 per favore no per favore per favore mi sono curato mi sono curato bravissimo bravissimo raga avete visto no però qua è stato fortunato non è lui bravo mi è stato fortunato e ammettimolo tutti perché ero avete visto no il muro dove ero ero davanti al muro ma proprio attaccato boh lui non so come ha fatto a killarmi comunque se mi ha killato veramente non è un hacker è solo fortuna eh però no 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 Grazie a tutti. Togliamo. 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 Il canale. Togliamo. 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 qualcosa di strano ma era così che c'era un botto di gente? è stato eliminato per una volta, almeno per me, è la prima volta che Bosco Pacifico è dentro della face, io amo il pompa quello lì protattico, vabbè ovviamente amo più, quello come si chiama? quello nuovo eh, non me lo ricordo come si chiama perché sono o meno come ho detto, dopo prendiamo quella trattura, quello è una R, non c'è R, vabbè qua mitragliette a volontà, che cavolo, pregami, pregami, pregami di pancia perché, ah, questo è stato nulla però l'avete sentito? no, tengo questo vostro, è stato rotto, avete visto? ha sparato velocissimamente e l'ho che non ammiera come me, te lo consiglio vabbè, secondo me per tante glielo facevo sicuramente però non ero esercito a modificare o a build arbor che ho visto che l'hanno muovita cos'è guardate che ha air questo anche lui non ha una air in teoria mi conviene a busciare ora posso anche non busciare e vabbè non ti ho sentito? dove è raga? ma era lui? non lo so ma non penso ma è impossibile che era lui vabbè lui era perché è deserto anche se è da qua a là o non lo so c'è essere lì boh sarà stato un bug non lo so ma ha non lo so vabbè 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 Grazie. Aspetta la raga arriva. Tornato. Ma lì però c'è qualcuno. Sì ma dai raga come faccio sta missione di fucili di precisione? Non so un cecchinaro. Non mi prendono eh. Dai. Io ho visto buildare però. Cioè buildare. Una costruzione che si stava finendo no? Ecco. Ho visto eh caro mio. Ti ho visto che sei lì dove c'è quella scala. Eccolo. Ma ho killato uno? No mi si è caduto l'albero. Quanti spari? E' meglio che mi muovo mentre c'è un mirino. Anche mi abbasso va. No. Stanno due combattendo. Uno al barret quindi è più pericoloso l'altro. Però va bene. What? What? Ah no lui al barret. Rett. Si. Non riesco molto a giocare un pochino. Nooo che poco. E' meglio che mi muovo mentre mi ero però. O no. Vabbè. Al barret mi devo muovere. Mi muovo. Mi muovo. Mi muovo. Ma che cosa fanno quelli? Ma che cosa fanno quelli? Oh cavolo. Sono pericose le macchine comunque. Non so quello col barret. Però dov'è? Non lo penso. Ah ma è lì. Dove sono? Raga per sbaglio eh. Ho ballato. Ma dov'è? Raga scusate ma mi partono i balli. Sai com'è mai? Ve lo giuro eh. Non volevo ottimarlo. Si lo so che avete trovato voi. Ebbè raga dovevo farlo col cecchino. Dai. Ma perché la fermo? Vabbè. Non aveva un po' un po' bella. Scusate per l'omissione papà. Vabbè però mi ha dato un piccolo per andare in safe zone. Dai raga. No. Dovevo farla col cecco. Lo giuro. Mi viene da piangere. Povera bananita poi. Poi era fermo e ho detto. Boh vado in bagno secondo me. Non lo so. Oh non so raga. Perché era fermo? O lì si era scaricato il controller. Non lo so. Poverino. Poverino. E guarda se giro a stare fanno troppo danno eh. ok. No. Scusate per guardare. Non è fissuto. Non penso che ci sceglie gli ottenuti. Ma sono tanti furbo. Poi se non è fissuto. Sizzle What the hell a fare un altro giorno mi prende il cecchino comunque oppure chiedo se la fa mia sorella perché lei è brava con il cecchino basta non mi spiego più di lui io avevo detto che era bravo quindi comunque basta il video perché sennò dura 50 minuti e poi appunto si carica dopo tre anni e mezzo ragazzi lasciate un bellissimo like lasciate una bellissima iscrizione e noi ci vediamo in un prossimo video grazie per la visione ciao 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 ciao